Ciao a tutti! Oggi prepareremo i muffin al caffè. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Ingredienti sono farina di tipo 00, yogurt al caffè, zucchero, olio di semi di girasole, uova, lievito per dolci, caffè espresso, vanillina e rum che è facoltativo. Andiamo in via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Unire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo le uova e la vanillina. Ed azioniamo il bimbi per 8 minuti a velocità 4 senza misurino. Aggiungiamo lo yogurt e l'olio di semi. ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 4. Aggiungiamo il caffè espresso, il rum che ricordiamo che è facoltativo. Ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 4. Aggiungiamo il bimbi per 1 minuto a velocità 4. Il composto è pronto. Versiamolo nei pirottini per muffin. Cuocere in forno a preriscaldato statico a 180 gradi per 20-25 minuti circa. I muffin sono cotti. Lasciamoli raffreddare del tutto prima di servirli. Muffin al caffè! Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!